Un saluto a voi tutti. Nella sede Varesina di Confcommercio si parla di turismo nell'ambito di uno studio curato dall'Università Cattaneo di Castellanza e dal professore Serati. Turismo è il primo focus di una serie di approfondimenti che scompongono l'economia del territorio da diverse angolazioni. Andiamo a sentire con autorità di settore e istituzioni il polso della situazione nel territorio, soprattutto sulla scia del post-pandemia. Noi da due anni stiamo acquisendo dati attraverso le celle telefoniche, quindi con una strumentazione assolutamente innovativa, che ci permette di monitorare il nostro territorio in modo puntuale ed analitico. Quindi noi conosciamo come si muovono le persone, sia gli abitanti residenti del territorio, sia i lavoratori, ma soprattutto anche coloro che arrivano da fuori dal nostro territorio. Quindi da che città, da che provincia, da che nazione arrivano in provincia di Varese, dove vanno e quanto ci rimangono. Attraverso questi dati, quindi oggi abbiamo messo a terra in collaborazione con l'Università della Liuc e la Camera di Commercio, un primo importante progetto di analisi del turismo in provincia di Varese che vede uno spazio di tre anni, quindi dal momento pre-pandemico, pandemico e post-pandemico. Quindi noi oggi presenteremo com'è l'attrattività del nostro territorio, da come lo era nel 2019 a come l'abbiamo vista nel 2022, fino a luglio-agosto del 2022. Che cosa emerge del complesso? Incoraggiante o no? I dati sono assolutamente incoraggianti. C'è una crescita nel 2022 rispetto al 2019, quindi sicuramente la parentesi della pandemia speriamo di essercela lasciata alle spalle. La sfida quindi sul futuro è un territorio che deve essere sempre più attrattivo perché la volontà del turista è quello di viverlo, di vivere la provincia di Varese sia nella parte nord che nella parte sud e chiaro adesso il tema energetico sarà la sfida reale che dovremo affrontare nei prossimi mesi, ma la volontà e la qualità del territorio c'è. Riaffermando quel grido di dolore che ieri come associazioni di categoria e sindacati, come parti sociali avete voluto mandare alla politica il loro ruolo, quello delle istituzioni politiche fondamentali. Sì, oggi l'intervento deve essere assolutamente strutturale, noi nel nostro piccolo facciamo di tutto per rendere di qualità il nostro territorio e per attrarre persone e visitatori, però la sfida energetica è una sfida molto alta che deve essere giocata dalla politica a livello nazionale, a livello europeo ed è questo l'urlo e questa è la richiesta che il mondo economico chiede alla politica. Direi che in tutta la regione c'è stata una ripresa eccezionale che ha dimostrato come i nostri territori, sono estremamente attrattivi, hanno anche dimostrato questa ripresa che bisogna però saper indirizzare le scelte, bisogna fare in modo che si diano quelle risposte che i nostri cittadini vogliono, risposte proposte di sostenibilità, quindi di turismo all'aria aperta, proposte di utilizzo della tecnologia, proposte legate a grandi eventi, bisogna cercare di adeguarsi, mi sembra di dire che la nostra regione lo stia facendo molto bene e la provincia di Varese anche. Presidente, tornando al tema, lei è uno strano sostenitore dell'autonomia, ottenendola anche sul fronte turistico la Lombardia potrebbe spingere di più? Su tutti i fronti vede ieri abbiamo discusso a lungo sulla possibilità di insediare a Milano il Ministero dell'Innovazione, ma bisogna capire che la vita è fatta non di conflitti politici, non di polemiche politiche, è fatta di cose reali. Ieri ho parlato con tutti gli stakeholders che sono interessati, rappresentanti delle aziende innovative, rappresentanti dei diversi clusters, rappresentanti delle università e tutti abbiamo fatto un ragionamento che prescinde dal fatto che uno sia di destra e uno sia di sinistra, ma che invece individua il bene del territorio e il bene del Paese, perché una scelta di questo genere andrebbe a favore del Paese intero, perché poi questo esempio in altre materie si potrebbe riprodurre. Siamo a cercare di capire se abbiamo intenzione di innovare anche l'organizzazione di questo Stato, che non dobbiamo dimenticare la stessa che venne realizzata alla fine dell'Unità d'Italia o se dobbiamo guardare ad altre ipotesi, ad altre soluzioni, al futuro, a quello che altri Paesi stanno già facendo come la Francia, come la Germania, come l'Inghilterra. E lo stesso vale per il turismo e per tutte le discipline della vita, se noi riusciamo a dare un'organizzazione più rapida, più efficiente a livello territoriale, tutto funziona meglio. Dopo aver ascoltato il Presidente di ConfCommercio, padrone di casa, Rudy Collini, andiamo un po' più nel dettaglio di questo focus con il Professor Serati, che è un amico di Rete55, un ospite pressoché fisso, soprattutto un tecnico dell'analisi. Allora, banale, siccome da tanto si auspica il rilancio turistico del nostro territorio, sta avvenendo questo rilancio nei numeri? Allora, rilancio è una parola che ha tanti significati, però nei numeri diciamo che si vedono delle avvisaglie. I dati che abbiamo estratto dalla piattaforma ci dicono che il 2022 segna un netto rialzo rispetto al 2021 e il ritorno ai livelli pre-pandemia, con alcune situazioni addirittura che si posizionano meglio rispetto al pre-pandemia, mi riferisco soprattutto al nord della provincia, quindi diciamo al bacino del Luinese. Quindi dal punto di vista numerico siamo tornati in pista, certo sono cambiate altre cose, è cambiata la profilazione del turista che predilige sempre di più soggiorni brevi, è cambiata la provenienza del turista che è in quota sempre crescente un turista a breve raggio o di prossimità, termine non efficacissimo ma che rende l'idea, e sono cambiate anche un pochettino le vocazioni, per cui la vecchia distinzione tra la parte nord della provincia che è tutta ambiente, sport e natura e la parte sud che è solamente business va un po' rimescolandosi, il che peraltro è una tendenza a livello nazionale, quindi noi in un certo senso siamo un campione rappresentativo di questi trend a livello più grande. Esiste un asset su cui investire maggiormente, perché è vero il territorio si distingue tra una parte più urbanizzata, industriale e di business e una parte più paesaggistica e naturalistica? Si può accontentare tutte le esigenze o bisogna scommettere solo su qualcosa? Allora, diciamo che intanto la Camera di Commercio ha scommesso su un asset che è quello dello sport e si vedono i frutti di questa scommessa, il che dimostra che si possono scegliere delle vocazioni specifiche da valorizzare. Più in generale questo è il grande momento dell'under tourism e quindi è il momento in cui alle destinazioni iconiche si sostituiscono i tesori di nicchia, i borghi nascosti, le piccole realtà e quindi in questo senso Varese che di grandi icone forse ne ha poche, può dire la sua e di piccoli gioielli sul territorio sparsi qua e là ne abbiamo. Un'azione di valorizzazione di questi piccoli asset a grande attrattività, magari messi in rete in modo intelligente può dare buoni frutti. In che misura potrebbe incidere il rafforzamento delle infrastrutture da tempo decantato? Un reale consolidamento di Malpensa, un collegamento veloce tra Varese e Milano, infrastrutture di diverso tipo rispetto a quelle odierne? Dai dati emerge con chiarezza che Malpensa è uno snodo imprescindibile, non solo per il turismo di provenienza internazionale, come si può pensare, ma anche per il turismo di provenienza nazionale. Quindi quello è un tema imprescindibile e considerate le vicissitudini dell'aeroporto quanto mai bollente. Le altre infrastrutture sono evidentemente un'esigenza che va gestita sempre nella logica del rapporto tra fabbisogno e risorse, però sicuramente un rafforzamento della rete viaria e ferroviaria verso il nord della provincia, che oggi ha dei tempi di accessibilità ancora troppo lunghi, rimane un dato sul tavolo, piuttosto pesante. Venite da un periodo molto difficile, diciamo baciato dal bel tempo, ma fiaccato dalle tante difficoltà. Adesso tasti un po' il polso della situazione, come sta andando? La stagione è andata molto bene perché, come dicevi tu Matteo, c'è stato un clima estremamente favorevole e la stagione era proprio tutta esaurita a livello di strutture. Il problema, e qua mi apri un argomento a noi molto caro, le strutture, oltre ai B&B, è povero di alberghi e quindi la ricerca sempre nel tempo che abbiamo, su cui ci siamo adoperati per aumentare le strutture alberghiere, purtroppo ad oggi ci vede ancora sconfitti. Luino che aveva 5-6 alberghi negli anni 40 e 50, oggi ne annoverà due significativi, tre, per contarli tutti. Questo certamente non agevola il turismo, un turismo che è soprattutto straniero, svizzero, tedesco, olandese. Per quanto concerne il turismo olandese abbiamo questo villaggio che è un loro mast nel comune di Brezzo di Bedero. I tedeschi utilizzano anche loro case di proprietà, seconde case, però purtroppo ci mancano strutture alberghiere che possano ricevere il mordi e fuggi inteso come turista che resti 2-3 giorni. Il nostro sogno è avere l'utilità di un mercoledì che porta presenze tra luglio e agosto attorno ai 10-12 mila passaggi, secondo anche il sistema Vodafone Analytics che stiamo proprio vedendo oggi in conferenza stampa e purtroppo restano solo una giornata, quindi vorremmo che si fermassero di più. Certamente una struttura alberghiera potrebbe favorire questa cosa. Esiste la possibilità di mettere in campo incentivi, agevolazioni che rendano attrattivi a un investitore dell'ambito alberghiero piantare radici nel Luinese? Noi crediamo fermamente di sì, è stato uno degli argomenti che in campagna elettorale negli incontri con i vari politici abbiamo messo in campo, perché purtroppo la riduzione del cugno fiscale, l'analisi di questo dumping salariale che per noi è deleterio, pensare a tutti i lavoratori che vanno in Svizzera tutti i giorni quando potrebbero restare sul nostro territorio, anche perché professionalmente li abbiamo educati e cresciuti noi, quindi c'è un investimento degli imprenditori locali che poi vede tutto il lavoro naufragare per via dell'attrattiva dello stipendio svizzero. Resta il fatto per chiudere con una battuta che è molto più facile che uno straniero raggiunga ruino piuttosto che un varesino, perché ci mette molto più tempo. Ecco, il problema infrastrutturale è certamente una delle cose che tutti i giorni andiamo ad analizzare. Sogniamo proprio una zona, come potremmo fare un parallelismo olivigno, sogniamo una zona che dia degli incentivi a raggiungerci ancorché l'infrastruttura non sia di qualità e ottimale. Peraltro anche il sistema ferroviario e di navigazione potrebbero essere implementati per renderci più facilmente raggiungibili. Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi, tra l'altro a qualche mese dalla scadenza del mandato tracci un bilancio dell'impegno che ha svolto come Presidente di un ente che è molto creduto nel turismo. È andata come sperava? Direi che è quasi andata oltre le aspettative, nel senso che non ci si aspettava un ritorno così importante, è stato un lavoro lungo, non semplice, ma che ha dato grandi soddisfazioni, soprattutto perché in pochi avrebbero creduto dall'inizio in un risultato del genere. Il risultato ovviamente è merito di tutti, non della Camera di Commercio. La Camera di Commercio ha dato uno stimolo a questo tema che oggi è abbracciato da moltissime realtà e oggi qui è l'esempio dell'importanza di questo settore per il nostro territorio che salvo i vari momenti delicati di questi 4 anni e mezzo di mandato nel quale abbiamo avuto una mira importante per le catastrofi, tra la pandemia, le materie prime e oggi il costo dell'energia, direi che i dati sono davvero impressionanti e positivi. Lei ha sempre insistito sulla importanza delle infrastrutture, il nostro territorio è sempre stato fiaccato da limiti, anche da limiti autoimposti, i comitati del no, il no a prescindere, lei si è sempre scagliato contro questi fantasmi. Il professor Serati nel suo studio insiste, è fondamentale un rafforzamento totale di Malpensa e un collegamento infrastrutturale viario e ferroviario più importante col nord della provincia. Due parole da parte sua sulla fattibilità oggettiva di questi passi avanti e dall'altro, crede che sia stata superata una volta per tutte la cultura del no? No, purtroppo no, perché la cultura del no vediamo che pervade ancora il nostro paese e ahimè anche il nostro territorio. Quello che sostengo io è che se c'è comunità di intenti, se c'è un obiettivo comune di tutte le forze economiche, politiche e sociali, la cultura del no non troverà terreno fertile, perché la cultura del no è una cultura egoistica, invece la cultura dello sviluppo infrastrutturale e dello sviluppo del territorio è una cultura etica, è una cultura etica perché stiamo celebrando la settimana dello sviluppo sostenibile, le imprese lavorano in modo sostenibile perché oramai non possono farne a meno e lo sviluppo del cluster del turismo ha dimostrato che arrivano gli investitori sul nostro territorio. Ecco, gli investitori devono essere messi in grado di lavorare in modo sostenibile, etico, ma i comitati del no non vanno da nessuna parte. Le svelo in retroscena, Camera di Commercio insieme alle associazioni datoriali è strata tra coloro che hanno sbloccato l'approvazione del masterplan di Malpensa 2030 con degli incontri mirati, abbiamo fatto tutto sotto traccia insieme ai presidenti delle quattro associazioni più importanti, ora il lavoro si è spostato a Roma perché il masterplan deve essere approvato, ma ecco, i comitati del no non hanno prevalso proprio per la volontà di un territorio di avere uno sviluppo che sia sostenibile, ma uno sviluppo perché senza sviluppo non si va da nessuna parte. Vice sindaco di Varese, Ivana Perusin, siamo riduci da un'estate entusiasmante per Varese città, per Varese provincia, gli eventi sportivi confermano l'attrattività di Varese in generale, del capoluogo in particolare, non solo l'ago naturalmente. Lei è soddisfatta? Sì, assolutamente sì, è stato un anno eccezionale, ci viene confermato anche dagli operatori e dal tavolo del turismo, dove ci viene confermato che dal mese di aprile in poi, quindi siamo partiti con un primo quarter leggermente affaticato anche per la variante Omicron, ma poi dal mese di aprile in poi le presenze sono state davvero altissime, sollecitate sicuramente da un aspetto paesaggistico e interessante del territorio, ma anche dagli eventi sportivi che stanno avendo una coda molto lunga, ci parlano di pernotazioni fino al mese di metà ottobre, quindi sicuramente un'attività interessante e importante per il territorio. Durante gli eventi sportivi, complice a questo grande successo che c'è stato, abbiamo toccato con mano la difficoltà dei pernottamenti, c'erano atleti costretti a pernottare dalle parti di Milano o a molti chilometri da Varese perché di camere non ce n'erano abbastanza, state facendo fronte a questa problematica e come? Sì, tra l'altro è una problematica di cui stiamo proprio parlando in questi giorni perché diversi operatori ci dicono che arrivano persone sul territorio, magari anche che richiedono affitti brevi, quindi di due o tre mesi e fanno fatica a trovare spazi, quindi ci viene richiesto proprio di sollecitare le persone, le famiglie che hanno spazi, camere, che possono essere disponibili all'accoglienza delle persone sul nostro territorio. Stiamo anche ragionando insieme all'associazione dei Bed and Breakfast proprio per organizzare un corso durante il mese di ottobre per chi ha degli spazi disponibili, faccio un esempio banale, magari al figlio che è andato a studiare in Inghilterra ha una camera, quella camera può diventare uno spazio sicuramente per l'accoglienza ma anche un'attività per la famiglia, quindi faremo questa iniziativa, questo corso dove spieghiamo cosa occorre fare in questi casi, come ci si può mettere in regola e come effettivamente si possono mettere a reddito anche degli spazi nella casa. Il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, penso possa definirsi soddisfatto per il rendimento turistico del suo territorio, evidentemente Saronno è un pezzo molto particolare della provincia di Varese, urbanizzato, industrializzato e anche considerato un crocevia tra diverse province. Quali sono gli asset su cui puoi investire per crescere ancora di più? Certo, allora sono sicuramente soddisfatto dai dati che vengono illustrati in questo momento relativi alla ripresa turistica, di presenza turistica anche nella città di Saronno. Stiamo crescendo direi in maniera molto significativa più di altre grandi città della provincia di Varese e questo ci è davvero di conforto anche per tutta l'attività che stiamo facendo come amministrazione in questo senso, cercando di sviluppare il marketing territoriale, cercando di sviluppare l'attrattività. Ecco, Saronno sappiamo avere, come dire, delle bellezze artistiche che sono tra le più visitate della provincia. Il santuario di Saronno, per le sue bellezze artistiche, gli affreschi di Bernardino Ruini, di Gaudenzio Ferrari, attira quotidianamente decine e in certi periodi dell'anno centinaia di visitatori. Stiamo lavorando assieme al Confcommercio saronnese sull'attrattività turistica del centro cittadino. Stiamo partecipando a un bando di Regione Lombardia per rilanciare l'attrattività del centro, rilanciare la bellezza del centro storico di Saronno, lavorando da una parte su una migliore gestione dei parcheggi, perché Saronno sappiamo è una città estremamente urbanizzata, quindi gli spazi disponibili per i parcheggi sono pochi, lavorando su una migliore attrattività dal punto di vista delle bellezze del centro, con una migliore illuminazione, con una migliore presenza di telecamere che permettano un migliore controllo della polizia locale. Devo dire che la Confcommercio di Saronno sta lavorando con noi, è al nostro fianco da questo punto di vista e questo ci fa davvero molto piacere. Quest'estate abbiamo organizzato una serie molto nutrita di eventi che hanno portato a Saronno davvero tante persone, anche tanti cittadini che venivano addirittura da fuori provincia e quindi questo ci sprona ad andare avanti in questa direzione anche nei prossimi anni. I lavori qui nell'Aula Consigliare di Confcommercio proseguono, ma da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.